I migliori anni, terzo concorrente in gara grafica. Dove non c'era che la mia voce di genere non piace da cinque mesi canto ogni amore in sordina perché sono letteralmente impazzita per te. Ma da quest'oggi ho deciso di cambiare, provando ad urlare con voce d'arrore, mi faccio sei uova alla coppia, è come una belva del rì, mi sbordo quintali di sui, sperando di darti non so che forse è proprio così, se no mi dirai di sì. A cinque mesi canto Il mio amore in sordina perché è caro e temo di farmi sentire da te. Ma da quest'oggi ho deciso di cambiare, provando ad urlare con voce d'arrore, mi faccio sei uova alla coppia, è come una belva del rì, mi sbordo quintali di sui, sperando di darti non so che forse è proprio così. Se no mi dirai di sì, se no mi dirai di sì. Oh 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 baby, e forse è proprio così, se no mi dirai di sì. Grazie. Miriana Bigi, canto anche se sono stonata, ma tu sei molto intonata, brava Miriana.